Da quattro giorni è iniziato il mese di luglio e presto partiranno anche i consueti saldi estivi e in arrivo dunque la stagione degli sconti che mette d'accordo venditori e clienti pronti a dare il via alla matacaccia, all'affare. Ogni regione ha le proprie modalità e durate, i commercianti marchigiani infatti sono pronti a fissare etichette promozionali dei saldi estivi dal 6 luglio al 31 agosto. Speriamo bene come tutti gli anni, d'altra parte sono sempre andati bene perché quest'anno no, quindi speriamo anche che vada bene quest'anno. Fino ad adesso abbiamo lavoricchiato con i saldi, speriamo di incrementare ancora di più il nostro lavoro, anche ieri sono arrivate cose nuove quindi stiamo acquistando sempre poi dopo scontati, tutta la merce sarà scontata e speriamo bene nel turismo, nelle persone qua, di pesaro anche. Io penso che andrà benissimo perché adesso le persone non vedono l'ora che arrivi gli sconti, sì sì, bene bene. Un consiglio per chi andrà a caccia di affari durante questi saldi, massima attenzione alla qualità. Certo, questo senza altro qualità e io parto subito con il 30 e ci sono qualche capi di borse così con il 50. La prima settimana sono invogliati, vengono a vedere, poi diventa una vendita normale perlomeno in questo negozio come tutti i giorni. Quale sarà la percentuale sui sconti? Faccio il 30%, poi quando sarà verso la fine di agosto anche metà prezzo. La nostra tipologia però di vendita è diversa perché tutto l'anno abbiamo prezzi buoni, economici, riusciamo ad avere clientela giornaliera che non si aspetta chissà che cosa perché ormai ci conosce. Speriamo che il tempo migliori, rimanga buono, però non c'è tanta gente in giro ancora, speriamo meglio. Davanti ai saldi sempre massima attenzione alla qualità del prodotto. Sì, questa è la nostra prerogativa, la qualità cerchiamo di averla tutto l'anno, i prezzi sono ripeto buonissimi sempre, faremo qualche cosa di sconto dove gli articoli sono disassortiti, però per quanto ci riguarda il nostro prezzo è sempre buono.